Aprete l'ospedale di Cariatti subito. Un sistema sanitario non deve fare utile di avere sempre un segno o meno davanti. Non è solo una questione di quanti chilometri dista il prossimo ospedale. Ma in che condizioni si devono percorrere? La Calabria non ci sta ad abbassare la testa. L'abbiamo appena occupato. Adesso siamo già a una quindicina. Il mercato delle bacche era sempre a favore dei privati. In Italia, in Europa, Giacarta arriva, detrì, liquida finalmente la solidità dell'Etat. Sono tanti che riguardano la salute, sono la morte di tanti cittadini. Imposano la privatizzazione dell'Etat. Il mercato di Giacomo Del mercato delle bacche Francesca Grazie a tutti.